Federico ma spiegami, quindi ci sono degli chef che usano questa carta e sono curioso adesso di sapere cosa hanno cucinato svelami qualche arcano perché magari ho mangiato del cibo, ho cucinato con carta fata e non lo sapevo quali sono i cibi che magari vengono cucinati più frequentemente, che sono ottimi da cucinare con carta fata, hai un'idea? Secondo me il pesce, è nata per il pesce, esalta il sapore e la fragranza del pesce perché non lo asciuga e dà tutti i vantaggi che non usa il sale quindi anche l'alimento stesso è ricco di tutti i suoi sali minerali, di tutte le vitamine che il pesce è molto ricco che normalmente nella cottura si perdono Quindi anche la mia zia adesso è persa, la domanda era come farlo gradire ad un pubblico americano? Lo sappiamo che gli americani si distinguono per tante qualità, forse per quella della cucina un po' meno, quindi è un discorso anche di educazione per loro Sì, e questa è la parte più difficile quindi negli Stati Uniti, è fargliela capire come funziona però ho visto che cominciano ad essere incuriositi soprattutto per l'apparenza, per come si presenta l'alimento Il pesce, adesso gli americani comunque secondo me sta migliorando, sta aprendo la mentalità alla tecnologia che sta entrando in cucina che fortunatamente l'Italia come il resto dell'Europa è in grosso vantaggio sul pianeta diciamo perché sono i più grandi maestri a mio giudizio, vengono dall'Italia e Francia e Europa diciamo e l'americano che comunque è un gran consumatore perché mangia tanto l'americano ho visto che le porzioni negli Stati Uniti sono pressoché abbondanti e con carta fatta potrà anche gioire delle sue porzioni abbondanti cucinate in un modo salutare Con un hamburger un po' più salutare Non solo quello speriamo Non è solo quello l'hamburger Non esageriamo Senti, Federico scusami, dove possiamo trovare questa carta? È reperibile sul mercato? Ovviamente tramite il mio website qui negli Stati Uniti che è www.decorfooditaly-usa.com Se lo ripetiamo www.decorfooditaly-usa.com Ricordatevi il trattino perché serve per differenziare Federico Zampieri ha una voce da jazz Sì, una voce State ascoltando carta fatta Carta fatta È venuto a farti concorrenza No, ma la jazz mi sta bene, pensavo mi desse un altro No, jazz non era una parolaccia Ah, ok, ok No, no, lo so No, non, no, la jazz mi sta bene e giallo No,пов causale No, la jazz si sta bene, pensavo mi piacciono Oggi si sta bene, pensavo No, sì, pensavo Sens Alo tu